I rappresentanti delle quattro province d'Abruzzo hanno incontrato una delegazione di agricoltori che si sono resi protagonisti della pacifica invasione dei trattori nei principali caselli delle autostrade abruzzesi. Le province si sono impegnate a promuovere iniziative di sostegno a favore della categoria alle prese con il caro gasoglio, il pagamento dell'imposta EMU sui fabbricati rurali, l'obbligo della doppia firma richiesta da AGEA, l'organismo pagatore in agricoltura, per gli affitti anche in caso di modesti appezzamenti di terreno, il confronto con Equitalia. Quali siano le aspettative dopo questo incontro lo spiega Dino Rossi, animatore del movimento dei Forconi d'Abruzzo. Innanzitutto è una grande soddisfazione perché abbiamo visto tutte e quattro le province unanime tutte pronte a darci la mano e questo è già un grandissimo segno. Adesso ci aspettiamo che queste istanze che la provincia porterà sul tavolo degli organi sovra-provinciali possano trovare accoglimento. Su cosa faranno le quattro province insieme ascoltiamo Angelo Dottavio, assessore all'agricoltura della provincia di Pescara. Le province si faranno parte di dirigente soprattutto su alcuni aspetti, che è l'azione verso i comuni affinché per quanto possibile, perché anche lì sono difficoltà, si possa prevedere uno sgravo contributivo ulteriore per l'Imu alle aziende agricole. Verso la regione Abruzzo affinché si possano valutare attentamente la possibilità di sostenere l'accesso al credito alle imprese agricole attraverso i consorsi fidi. Insieme a questo poi abbiamo l'esigenza di evitare che si aggravi ancora di più sulle imprese agricole la cosiddetta batosta del caro gasolio. E quindi su questo la materia è un po' più complessa, ma anche qui la provincia cercherà, anche attraverso una risoluzione in consiglio provinciale delle diverse province, oggi qui quattro presidenti si sono anche presi questo impegno a favore degli imprenditori agricoli, cercando di sostenere questa battaglia che non è neanche di un sindacato, perché è delle imprese che nasce dal basso. Noi attendiamo fiduciosi, altrimenti saremo costretti a ricevere in piazza di nuovo nuovamente.